Siamo qui insieme al Messia, che è uno degli otto finalisti, che andrà, si spera, anche a Sanremo. Speriamo. Come ti senti? Mi sento, è una sensazione strana, perché vincere per gli artisti non è poi tanto, succede spesso, quindi quando succede è una bella sensazione. Devo ancora capirlo, però sicuramente è una bella sensazione. Come è andata l'esperienza, questo giro intorno in quest'area Sanremo, dove avete fatto veramente tante cose? È stata veramente fantastica, è una manifestazione, al di là che io abbia vinto, è veramente una manifestazione formativa. Non è stato semplice per me, perché arrivo da una faringite acuta, però evidentemente forse hanno saputo vedere al di là della vocalità, che magari non era il top, ma la canzone veramente merita. Sono tanto orgoglioso di questo pezzo. Quanta importanza per te la musica? La musica è vita, nel senso che se non ci fosse quella io probabilmente sarei stecchito in qualche canale, ma lo so, smorto. E invece tu sei un giovane, siete tanti giovani. Come è stato lavorare insieme a tanti giovani e scoprirsi poi con tante diversità? Poi ho visto che siete proprio diversi, in alcuni sensi. Esatto, ma lavorare in un gruppo è veramente importante perché la contaminazione è quella cosa che poi crea un prodotto, anche a livello personale, artistico, umano, ti completa, è veramente un'esperienza unica. Allora, a noi non ci resta che farti un grandissimo in bocca al lupo. Credi, crociamo le dita. Grazie. 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 Grazie.